È in programma per il 2 d'agosto presso lo stabilimento FIMER di Terra Nuova un incontro fra i rappresentanti del fondo Clementi e i lavoratori. In tale sede verrà probabilmente illustrato il progetto del fondo che nei giorni scorsi ha ricevuto il via libera dal Tribunale di Milano. Clementi entro il 6 agosto dovrà erogare 5 milioni per il salvataggio di FIMER. Lo stesso fondo aveva annunciato un investimento di ripartenza da 17 milioni, quota parte dei 96 complessivi del suo pacchetto di offerta. Per il 21 del mese è stata altresì fissata l'udienza, sempre presso il Tribunale del Capoluogo Lombardo, che darà il via o meno al concordato richiesto dall'azienda. Nel frattempo gli azionisti di FIMER hanno reso noto di aver raggiunto l'accordo con Greybull McLaren in totale disaccordo con il CDA. Una vicenda ingarbugliata che vede al centro uno stabilimento che dà lavoro a circa 400 persone che ancora non sanno quale sarà il loro futuro. Intanto dai sindacati non sono arrivati commenti. L'auspicio è che dalle parole si passi ai fatti, fornendo ai dipendenti risposte certe ed immediate.